Buongiorno, Buongiorno, buon lunedì, buon 25 aprile, buona festa della liberazione a tutti voi, siamo pronti come sempre per mostrarvi le prime pagine dei quotidiani locali nazionali e per sfogliare insieme a voi anche le pagine dei quotidiani locali abruzzesi con particolare attenzione come tutti i lunedì alle pagine dello sport, agli eventi nazionali, in particolare a quelli locali, anche se ieri il grosso dell'attenzione è stata catalizzata dal campionato di Serie D con le retrocessioni sostanzialmente arrivate con il conforto della matematica di Giulianova e Amiternina e con la lotta per il quinto posto che vede uscire di scena il Chieti e compromessa invece quella del San Nicolò. Serie D che accoglie anche la Vastese che ieri ha vinto il campionato di eccellenza passando 3-1 sul campo della Val di Sangro e avendo la meglio di un soffio dunque sul paterno. E poi per il calcio a 5 non ce l'ha fatta il Pescara a vincere la finalina per il terzo posto, una sconfitta in rimonta e patita ai calci di rigore. La squadra di Colini finisce la competizione al quarto posto, una competizione vinta se vogliamo a sorpresa dai russi dell'Ugra che hanno battuto i padroni di casa dell'Inter Movistar. Andiamo ora con le prime pagine dei quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera. Austria avanza l'ultradestra, Hofer del partito antimigranti domina le presidenziali, Verdi al ballottaggio, scossa a Vienna, stoppa ai candidati di popolari e socialisti, Obama loda Merkel e dalla parte giusta. E poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco, Europa USA, il passo incerto. Di spalla la promessa del partigiano dodicenne alla madre. La fotonotizia, l'impresa atterrato in California, oltre il Pacifico l'aereo solare ce la fa. Di spalla Roma, Bertolaso tutti contro tutti, Meloni coalizione finita, resta divisa l'opposizione con quattro nomi in gara. In basso i single che si nascondono nelle coppie, l'ossessione della felicità ci spinge tutti a cercare altro all'inseguimento del vero amore. Poi per lo sport, lezione spagnola della Furia Rossi, MotoGP vittoria a Jerez. Poi battuta la Fiorentina, Juve più vicina allo Scudetto. Prima pagina che andiamo a vedere, quella della Repubblica, con una intervista al Premier Renzi. Non siamo più subalterni ai PM, ora norme per accelerare i processi. Intervista appunto a Renzi, non esiste una deriva autoritaria, i politici che rubano vanno trovati e puniti. Per la cultura, l'anima di Cervantes e Shakespeare dentro di noi, a 400 anni dalla morte, i due giganti raccontano la contemporaneità. E poi l'impresa di Valentino Rossi, la vendetta di Valentino, batte Lorenzo e Marquez. Godo, dice Valentino Rossi. Poi al centro, Austria, volano gli anti-immigrati, scontri al muro del Brennero, presidenziali in testa l'estrema destra. E poi il vertice, Obama loda Merkel sui profughi, sei dalla parte giusta. Poi ancora in basso, basta con il low cost, c'è la primissima classe, boom di viaggi per super ricchi. E poi la copertina da Trudum ai bimbi, la fisica diventa pop. Andiamo avanti con la prima pagina del giornale. Scrive Berlusconi, ecco dove va Forza Italia, il cavaliere al giornale, noi siamo i moderati, la coalizione ha vinto solo quando ha parlato agli italiani con il nostro linguaggio. Poi l'editoriale di Nicola Porro, barbarie giustizialista, la lotta continua dei magistrati contro tutta la politica. Finale di partita, di solito si trova sul fondo della prima pagina, questa volta in taglio medio. Valentino non finisce mai, batte in casa gli spagnoli. E poi ancora di spalla, allarme sicurezza, adesso il governo vuole cedere una parte di ENAV. Ecco, abbiamo avuto una piccola interruzione che abbiamo ora recuperato. Elezioni presidenziali in Austria, vince la destra anti-immigrati. Il candidato del Partito della Libertà ottiene il 35,4% dei voti al ballottaggio con i verdi. E poi ancora sempre di spalla, Raffaele Sollecito, ho trovato la libertà in un frigorifero. E poi la truffa delle arance, tricolori solo fuori, ma africane dentro. In basso, riconoscere il made in Italy, così si possono degustare pasta, formaggi e salumi. La prima pagina che andiamo a vedere ora è quella del fatto quotidiano. I processi rapidi fanno paura. Il procuratore antimafia, Roberti, dà ragione a Davigo. Le riforme non arrivano mai. E poi, sotto la testata, vedete, l'Austria ha scelto il muro. Vince la destra anti-immigrati. Hofer va al ballottaggio contro i verdi. Scontri al Brennero. In basso, storie di copertina. Oggi è il 25 aprile, ma di chi è la festa? Il giorno della liberazione siamo andati a chiedere cosa sanno i ragazzi delle scuole superiori. Le risposte sono state spesso desolanti, silenzi, imbarazzi e non ricordo. E poi, primo piano, trionfo a Jerez. MotoGP vale e fa come Totti. Che goduria. In basso, ma la storia non si può cambiare. Vuoti di memoria quelli che negano e quelli che falsificano il passato. Ora, la prima pagina del messaggero in primo piano. Il titolo d'apertura è legato alle elezioni in Austria, con il trionfo dell'estrema destra. Austria, trionfo anti-migranti. Elezioni presidenziali. La destra xenofoga di Hofer stravince. Al primo turno con il 36,4%. Disfatta per socialisti e popolari ai minimi storici. Al balottaggio vanno i verdi con il 20,3%. Sotto la testata lo Sport. Leicester Super, Ranieri, quattro gol a Guidolin. La premiera è più vicina. Campionato Lazio-K.O. a Genova. Addio sogni europei. C'è Roma-Napoli per il secondo posto. Poi, tornando al titolo d'apertura, c'è l'editoriale di Alessandro Campi. Il vento estremista, il populismo e le risposte che mancano. E poi ancora il vincitore, l'erede di Haider, dai modi garbati. Oggi il vertice di Hannover. Vienna preoccupa Italia e Stati Uniti. Piano Libia per bloccare i profughi. Poi, la fotonotizia, ancora dedicata alla MotoGP. Rossi domina a casa di Lorenzo e Marquez. Valentino imprendibile nel Gran Premio di Spagna. Lo strappo di Roma. Berlusconi prepara una svolta al centro. Nuova fase per Forza Italia dopo la rottura con Meloni e Salvini. Ma la base è divisa. In basso, ho abbandonato i bimbi per salvarli. Parla la mamma che di notte lasciò soli i figli a Montelivata. Poi, ancora più in basso, lo vedete, pagamenti anche dal tabaccaio, orari lunghi, più rate e niente ganasce. Ora Equitalia promette riscossioni soft. Lasciamo le testate nazionali. Ora andiamo con quelle locali. Vediamo le prime pagine delle quattro edizioni del centro, partendo dall'edizione aquilana. Fracassi. Ciao Teramo. Meglio Roma. L'Aquila, il presidente di Confindustria, applaude all'intesa con la capitale. È alleanza strategica. Dopo lo strappo abruzzese si punta a realizzare progetti come quello sull'energia. Sotto la testata vedete, a destra, le presidenziali in Austria. A sinistra, il vicepresidente del CSM, Legnini. La politica rispetti i magistrati. E poi, in basso, la fotonotizia. I giovani fanno business con i cibi d'Abruzzo, sul Mona, nuove frontiere del commercio. Per i richiami di cronaca, Adavezano uccise un ragazzino, ora evade e nei guai antidormi. Si allontana da Ceramo. Capistrello. Il sangue era infetto, risarciti dopo 52 anni. Poi c'è la proposta, 25 aprile, l'Abruzzo si merita la medaglia d'oro di Carlo Troilo. In basso, Movida violenta, due feriti. Avezzano botte in centro. La polizia cerca 10 persone. Il buongiorno Abruzzo di Roberto Raschiatore. Se in una fotografia appare la Madonna. Avanti ora con l'edizione di Eccanico, Chieti, Unidav, gli sconfitti fanno ricorso. Chieti, prima grana per l'Ateneo, telematico appena nato e con un ex capo di Stato nel CDA. La rivale, arrivata a seconda, scrive subito al ministro dell'università la gara. Non è legittima. E poi, la fotonotizia, la promozione dei ragazzi di Bolami, la vastese vola in serie D. La città esplode, la festa per l'impresa dei, in città esplode la festa per l'impresa dei biancorossi. Poi, ex primario a Chieti, addio a Scarpinelli, il famoso ortopedico, ancora in basso, vasto, la notte dei vandali, picchiamo i passanti, picchiano i passanti e spaccano i vasi. Ancora, avanti con la prima pagina dell'edizione di Teramo, a fuoco il rifugio dei disperati, Silvi, incendio causato dal fornello di alcuni senza tetto. Poi la fotonotizia, scontro fra auto in un sorpasso, due feriti sulla statale 80 a Selvapiana. Il caso Norante a Roseto, elezioni a Roseto, i leghisti mollano Pavone. In basso, pesante K.O. a Campobasso, Giulianova, cinque sberle e retrocessione. Medico assolto in appello, il tribunale lo aveva condannato per lesioni colpose. Andiamo ora con la prima pagina dell'edizione di Pescara del Centro, poi entreremo all'interno e leggeremo i contenuti, i vari articoli. Respinto dalla moglie, terrore in casa, tragedia sfiorata in un paese del pescarese, il marito furioso, versa la benzina in camera e in cucina, minacciando di incendiare l'abitazione, la giovane mamma scappa con i figli, l'uomo arrestato. La fotonotizia con Giovanni Galeone in evidenza, Galeone che bel pescara con Oddo e Lapadula, i biancazzurri conquistano anche l'ex allenatore. E poi ancora, verso l'estate, in cognita mare, vanno forte i lidi con piscina. Città Sant'Angelo in lutto e morto Gian Sante, l'ex sindaco comunista. Lavori in città per 21 milioni, pescare il comune, svela le opere da realizzare. Subito a pagina 2, per parlare appunto di questa festa odierna del 25 aprile. Boldrini, difendere la Costituzione con l'antifascismo, appello del Presidente della Camera, Mattarella in Valsesia, cortei in tutta Italia, a Roma non ci sarà la brigata ebraica. E poi, CSM, Legnini e la politica, rispetti i magistrati. Avanti con la pagina 7 dell'Abruzzo, 25 aprile, la ricerca della verità. Quell'elenco delle stragi finalmente completo. Gli eccidi nazisti e o fascisti, dal 1943 al 1945, ricostruiti in un'Atlanta. Si scopre così che i raid in Abruzzo sono stati 359 e le vittime 903. e qui abbiamo alcune date particolari appunto da ricordare. Onna, 2, 11 giugno 1944, Sant'Agata di Gesso Palena, 21 gennaio del 1944, Pietranzieri di Roccaraso, 21 novembre del 43, e poi Capistrello, 4 giugno del 44. E poi, in basso, leggiamo in un click, i particolari di ciascun episodio. Al progetto hanno collaborato 24 ricercatori, l'Istituto per la Storia della Resistenza, e molti giovani. Poi ancora, negli Stati Uniti esportiamo più computer che pasta. Apparecchi elettronici e ottici, scavalcano i dati su vino e prodotti alimentari. Focus di Unicrediti, le PMI, spinte ad internazionalizzarsi sempre di più. Avanti ancora con le pagine di Pescara. In cognita, mare e partita la corsa agli stabilimenti con piscina. Scarsa trasparenza sui dati dell'inquinamento dell'estate 2015, nuovi divieti. I pescaresi si organizzano, ma i bagnatori insistono, le vasche sono solo un servizio alternativo. L'acqua deve tornare pulita. Poi pagliari di Apollo, senza piscina facciamo la fame, ma ci hanno bloccato il progetto. Appello ad Alfonso, deroga il piano devaniale nei casi di emergenza. Nella pagina successiva troviamo intanto le parole di alcuni dei balneatori di Pescara. Nicola Rabuffo ha contattato un laboratorio privato per analisi settimanali. Riccardo Ciferni, abbiamo la piscina del 2000, è un servizio, non un business. Alessandro Mundola è un'attività sportiva, non ha spostato di tanto le prenotazioni. Lorenzo Iulianetti, in vasca 150 bambini al giorno, avremo tre bagnini. Poi, come possiamo leggere, il litorale di Francavilla non è mai stato così pulito. Ottime le prime analisi della stagione. Il nuovo centro-destra attacca il comune, il progetto del nuovo porto ancora bloccato al Ministero. E poi, tornando al 25 aprile, cerimonie in tutta la città, appunto, per ricordare il 25 aprile. Primo appuntamento alle 10.30 in piazza Garibaldi per commemorare i caduti, poi davanti al Ponte del Mare, la prima azione della bandiera di No Ombrina. Manutenzione di strade e scuole, pronto un pieno da 21 milioni. L'amministrazione comunale presenta il programma delle opere da realizzare entro quest'anno. Nell'elenco anche il restauro della stelle d'Annunziana e il completamento della città della musica. La cronaca, abbiamo visto già il titolo d'apertura, No della moglie, lui tenta di bruciare casa. Alba di terrore nel Pescarese, la donna scappa con i figli e chiama i carabinieri. Ha restato per tentata violenza sessuale. In basso, addio a Gian Sante, l'ex sindaco comunista in città Sant'Angelo, in lutto. Pagina di Chieti, la lettera al Ministero, Università Telematica, scatta il ricorso. Si è appena insediata con un capo di Stato nel CDA, ma la seconda classificata ritiene illegittima la gara per l'Unidav. Mondo accademico in lutto, è morto il professor Scapinelli, grande primario di ortopedia. La cronaca vasto, in quattro picchiano passanti e rompono fioriere, poi con l'auto nel burrone è ferito un 25enne a Castiglione-Messar Marino, francavillese, coinvolto nella notte in un rocambolesco incidente. Pagine dell'Aquila e Teramo. Partiamo dall'Aquila, Confindustria, ora guardiamo a Roma, alleanza strategica, le reazioni dopo il divorzio da Teramo. Il presidente Marco Fracassi, non pensiamo ai numeri, contano molto di più i progetti come quello sull'energia. In basso, eredi risarciti dopo 52 anni, a Capistrello, sangue infetto, non c'è la prescrizione perché la vedova è analfabeta. A Teramo, Silvi va a fuoco il rifugio dei disperati, incendio innescato dai senza tetto che usano il villaggio del Fanciullo come ricovero per la notte. Il sindaco lo abbatteremo. A Montorio, domani in corteo, i lavoratori della piscina a Montorio senza stipendio da dicembre, la titolare suona un po' indietro, ma pagherò tutti. Andiamo a chiudere, il ragazzo perse la milza, ha solto il medico, la dottoressa era stata condannata per lesioni colpose, ma la Corte d'Appello ribalta la sentenza. Chiudiamo qui con il centro, torneremo più tardi con lo sport. Ora andiamo a vedere le pagine del messaggero Abruzzo, intanto la prima con la cronaca in apertura, Raptus con la moglie arrestato, Pescara respinto dalla consorte minaccia di dare fuoco all'abitazione davanti ai figli piccoli, la donna scappa con i bimbi, i carabinieri arrestano l'uomo per maltrattamenti, è tentata violenza. Poi sotto la testata c'è lo sport, Chieti, ufficiale giudiziario ancora allo stadio, ha pignorato l'incasso del calcio. L'Aquila, ultra del basket, rimedia un daspo di 5 anni per tifare Bologna. UEFA Futsal Cup, Pescara, l'avventura europea si chiude con il quarto posto a Guadalajara dopo la sconfitta in semifinale contro i padroni di casa dell'Inter Movistar, Delfino al tappeto, ai rigori nella finalina con il Benfica. Poi vediamo questo articolo scritto da Nicola Mattoscio, la brigata Maiella e il vento del sud il 25 aprile nel segno dell'Europa insieme alle delegazioni estere. La fotonotizia ha rischio il parco della memoria incubo bilancio a L'Aquila. Poi ancora taglio dei pini l'occhè del tar fa tremare gli ambientalisti il comune ha deciso di andare avanti deciso di andare avanti Di Paola e Masci insorgono chiaramente il comune di Pescara. Poi vediamo questa foto legata anche al maltempo di queste ore Nubifragio ad Atri coppia salvata dai sub abruzzesi nel mondo la pianta di fico di Angela all'interno del messaggero Abruzzo marito respinto vuole incendiare casa al rifiuto della donna si è sfogato con insulti e ha minacciato di appiccare il fuoco in cucina e camera da letto con la benzina la scena si è svolta davanti ai due figlioletti di 9 e 3 anni che la madre pur terrorizzata è riuscita a portare in salvo e poi Florviva incorona i fioristi spagnoli assegnati premi del concorso boom di visitatori al marina slitta ad oggi la visita del pescar calcio pagina aquilana bilancio in bilico e a rischio anche il parco della memoria la progettazione ancora in corso consente di non congelare i soldi che già ci sono i 18 milioni che si attendono dal governo potrebbero far saltare in aria il comune e poi ancora in Marsica comuni marsicani uniti riparte il sogno summit nel palazzo di città di Avezzano nel tentativo di poter aggregare le forze per tutto il comprensorio il capoluogo fungerà da punto di riferimento la scelta a giudizio unanime favorisce l'unanimità verso il progetto il sindaco di Pangrazio sindaco di Avezzano un'idea volta a favorire lo sviluppo unendo le risorse la pagina di Chieti Chieti onora i suoi eroi ma è polemica manifesti alla villa la consegna delle medaglie agli ex partigiani ecco tutti gli eventi ad attessa provocazioni di forza nuova lampi segnali pericolosi e devastanti e poi come abbiamo visto in prima pagina calcio debito non pagato pignorato incasso allo stadio pagina di Teramo pronto soccorso il reparto registra il record di accessi dall'inizio dell'anno sono quasi 13.000 i pazienti visitati all'ospedale Mazzini la ASL è però preoccupata per i dati dei piccoli presidi che non decollano il primario Rita Rossi prima del restyling era un vero suc adesso la struttura è all'avanguardia poi ancora acque di balneazione problemi dal Tordino i risultati delle prime analisi in chiaro scuro niente coliformi nel tratto centro nord lasciamo ora il messaggero Abruzzo ci torneremo anche in questo caso per le pagine dello sport e iniziamo appunto l'ampia parentesi sportiva lo facciamo attraverso la gazzetta dello sport che dà attenzione a quanto avvenuto ieri sia per il MotoGP sia per il campionato di Serie A ecco qui la prima pagina vale doppio da una parte vale cinque dall'altro Valentino in testa dall'inizio alla fine trionfa nel GP di Spagna in casa dei suoi avversari Lorenzo e Marquez che gusto il podio con loro un po' più in basso e poi vale cinque la Juve fa 2-1 a Firenze e l'allungo scudetto reti di mangio chi c'è Morata Buffon para un rigore nel finale oggi bianconeri campioni se il Napoli non vince a Roma c'è il commento di Umberto Zapedoni Rossi Highlander del nostro sport mai dire mai quando si parla di Valentino è inutile porre limiti ai sogni ogni volta che sei lì lì per svegliarti lui ti spiazza e ti sorprende l'analisi di Luigi Garlando come sgomma Gigi il titolo è suo e poi in basso tanti richiami in campo alle 17 nella Fatal Verona il Milan di Brocchi rispolverà Menes la rincorsa Eder golle yoga per tenersi l'Inter e puntare l'Europeo lotta salvezza il colpo del Palermo a Fossa di Frosinone chance per il Carpi Premier Ragneri Guidolin 4-0 adesso al Leicester mancano 5 punti il caso Vieira a New York fa fuori Pirlo giocano i migliori ciclismo epico Liegi dalla neve spunta Poels Rosa decimo con i Big all'interno subito pagina 2 pagina 3 dedicata all'impresa di Valentino Rossi Vamos Vale ha stracciato i rivali spagnoli cosa conta l'età 6-6 Rossi a 19 anni e 250 giorni dal primo sigillo da lezione a Jerez Lorenzo fu ribondo con la Michelin secondo e Marquez terzo ma staccati il pesarese a meno 24 da Mark nel mondiale che gusto il podio con quei due ma stando sul gradino più alto il dottore vincere qui è come farlo al Camp Nou stadio del Barça ed è importante perché di solito se vai bene qui vai bene dappertutto un meccanico mi ha detto stai in testa fino alla fine mi è sembrata una buona idea questo dunque per il trionfo di Valentino Rossi ma non è tutto la Yamaha abbiamo fatto bene a tenere Valentino Jarvis per lui l'età è solo una cifra Galbusera più forte del 2015 Flamini crede al titolo avanti ancora con il calcio pronta Juve il quinto titolo sta arrivando Buffon respinge la viola se oggi il Napoli non vince Allegri ancora campione poi quando il gol è un'arte stregati dal MoMA nella città degli Uffizi la coppia del destino Morata e Mangiuchic avanti ancora con uno dei tre posticipi di oggi piatto forte di Roma Napoli il secondo Perotti Guain le fasce questi i tre snodi cruciali e poi Pjanic ha il piede da sorpasso noi crediamo la rimonta Amsic fa 400 nell'Olimpico dove ha alzato già due coppe vediamo le probabili formazioni con una nuova panchina per il capitano della Roma Totti in panchina anche Dzeko nel Napoli il ritorno al centro dell'attacco del Pipita Higuain avanti ancora Inter e pur si muovono Eder via l'ansia il gollo yoga all'europeo da prendersi Jovetic c'è una doppietta per costruirsi il nuovo domani e andiamo avanti con le pagine del tanto del calcio internazionale perché c'è il Leicester di Ragneri che è a un passo dal titolo Leicester 4 gol e spettacolo Ragneri a 5 punti dal sogno lo suonzi di Guidolin spazzato via anche senza Vardi con Ujoa e Marez l'allenatore dovevamo dare una risposta ora dobbiamo lottare fino all'ultimo ecco alcune degli scatti di ieri con l'esultanza di Ragneri per i 4 gol della sua squadra sempre più vicina al titolo per la serie B colpo deve vincere col Perugia se no è fuori la classifica dice che con la vittoria di ieri lo vediamo la saernitana ha scavalcato il lanciano ora terzo ultimo direi che per la gazzetta possiamo fermarci qui andiamo a vedere ora la prima pagina del corriere dello sport prima di andare in pubblicità e chiaramente anche in questo caso fare i puntati su campionato e moto GP Juve scudetto da giganti trionfa a Firenze oggi può arrivare il quinto tricolore di fila gol di Mangiukic Karinic e Morata ci pensa Buffon a parare il rigore decisivo e se il Napoli non vince titolo servito in poltrona poi dai ragneri dai Leister travolgente 4 a 0 allo Swonzi di Guidolin e a 5 punti dal titolo oggi il Tottenham continua la favola del tecnico in Premier League l'opinione di Alessandro Vocalelli questa Juve è di diritto nella storia in basso Roma-Napoli con Higuain sfida finale per la Champions e poi MotoGP a Erez domina il nostro pilota che festa Valentino quanto ho goduto Rossi Batte Lorenzo e Marquez in Spagna noi ci fermiamo ora andiamo in pubblicità poi rientriamo per vedere altri titoli e per vedere anche diversi servizi eccoci rientrati di nuovo buongiorno e buon 25 aprile a tutti voi riprendiamo la nostra segna stampa vediamo qualche titolo all'interno del Corriere dello Sport intanto sul piatto forte di questo pomeriggio lo scontro tra Roma e Napoli Spalletti la mia Roma tipo Leister Sarri il mio Napoli non fa calcoli e poi due dei protagonisti annunciati Sarai Company la cooperativa di idee e gol Higuain e Company ritorna il Pipita il gol è nell'area e poi ancora Palermo colpo salvezza Giradino visto siamo ancora vivi Lazio ciao all'Europa troppi regali alla Samp e poi Verona Milan questo oggi ma c'è quest'altra notizia il principe malese compro il Milan Tunco Ismail esce allo scoperto stiamo trattando è giovane 31 anni gioca a polo da pro ama le auto e anche il nostro calcio già a capo di un club è una possibilità concreta vogliamo una collaborazione l'ipotesi una quota di minoranza e poi puntini puntini il neotecnico Brocchi ha vero una prova d'orgoglio e da quest'altra parte intercinese con Tohir e Mancini il presidente anche Moratti trova il gruppo Souning serio e poi la squadra il gran ritorno degli uomini gol e ora Jovetic puntini puntini avanti ancora con la pagina della serie B Sayanitana aggancio salvezza al primo Donnarumma poi Coda è vantaggiato sigilo di zito ripresi il Latina e il Modena in Tella in gioco con Troiano Blitz playoff al Francioni puntini contestati il posticipo del Piola Baroni cerca il Verano Vara Bisoli vede chi è da Perugia e poi per la Lega Pro Mazzeo spinge il Benevento verso la B adesso ai giallorossi basta un punto per poter festeggiare la promozione il Catania vince con Russotto ma non è salvo e poi il Cosenza si rilancia nella corsa ai playoff battuto il Foggia per 1 a 0 e ora lasciamo il Corriere dello Sport e andiamo con il centro in particolare con l'inserto lunedì sport ecco qui Galeone promuove il Pescara l'ex tecnico Biancazzurro applaude Oddo e Lapadula Lanciano terzultimo ora c'è Lavellino poi in alto MotoGP in Spagna Dominio di Rossi Godo il Vastese Giannone è settimo basket di A2 Trullo Rosetto agli spareggi sarà una mina vagante UEFA Fuzz al Cap il Pescara battuto ai rigori chiude al quarto posto eccellenza Vastese in festa per il ritorno in serie D e qui vediamo la foto di uno dei protagonisti l'attaccante della Vastese appunto Tarquini serie D il derby all'Avezzano Miternina retrocede con il Giulianova promozione la Virtus Teramo e il Penne a due passi dal trionfo i giovani spiagge d'Abruzzo Cappa Roseto oggi il gran finale poi in basso il doping e di Luca diventano business in libreria le malefatte dell'ex corridore di spoltori in un volume dai direttanti fino al giro vinto o sempre barato poi ancora avanti con appunto le due pagine sul Pescara Galeone la padula diabolico ma deve ancora crescere intervista all'ex tecnico Sannato alla festa per gli 80 anni della società porto questa piazza nel cuore che emozione rivedere tanti vecchi amici il baffo del filo di Antonio De Leonardis la volata è appena cominciata in basso anche a Chiavari senza tifosi il quinto divieto quest'anno pesa la sassaiola con i cesenati in vantaggio con Bari e Trapani gli scontri diretti favoriscono i biancazzurri in caso di arrivo a pari punti e poi possiamo leggere qui Oddo questa sera ospite su TV6 faccia a faccia con l'allenatore del Pescara Massimo Oddo sarà il protagonista questa sera della trasmissione Replay la trasmissione curata e condotta da Enrico Rocchi dunque appuntamento più che mai imperdibile in particolare per i tifosi del Pescara ma non solo noi ora andiamo ad ascoltare le parole del capitano del Pescara anzi facciamo una cosa andiamo a vedere anche i titoli del messaggero sul Pescara dopodiché ascoltiamo le parole di Memushai Pescara riscopre la difesa non c'è solo la padula dietro la grande risalita il segreto è la ritrovata solidità del reparto arretrato indicazioni positive sulla condizione atletica il 4-2-3-1 potrà tornare molto utile nei play-off sorprendendo il contributo dei giovani l'atteggiamento complessivo più aggressivo e poi anche sul messaggero si fa il punto sugli scontri diretti Biancazzurri bene anche negli scontri diretti attualmente il saldo è negativo solo col Novara delfino in vantaggio con il Trapani il Bari e lo Spezia e poi ecco già un'anticipazione delle parole di Memushai che peccato dover saltare i play-off allora ascoltiamo proprio le parole del capitano Biancazzurro Ma oggi era una partita particolare perché già da riscaldamento si sentiva una partita non come l'altra era una partita diversa perché era una partita celebrativa quindi c'era un po' di emozione infatti magari si è visto un po' in campo però tanto merito va anche al Brescia che al primo tempo non ci ha permesso di giocare ci aggrediva sempre e ci ha dato pochi spazi poi al secondo tempo forse col cambio di modulo forse perché siamo entrati diversamente in campo è un po' perché forse sono calati loro e siamo usciti alla grande tutti i gol sono importanti però il gol di oggi è ancora più importante secondo noi segnato in una partita in cui si festeggiavano gli 80 anni il Pescara e poi parlando proprio della sfida col Brescia aver pareggiato all'inizio del secondo tempo è stato importante sì quello ci ha dato una spinta perché pareggiarla subito poi avevamo ancora 45 minuti per cercarla di vincere sicuramente oggi è un gol importantissimo forse uno dei più importanti nella mia carriera quindi e sono molto contento anche perché ripeto era una partita molto speciale oggi e ci tenevamo a fare bene e ci siamo riusciti alla fine i tifosi vi hanno dato una grande mano come sempre sicuramente sicuramente ce l'hanno data ce la devono dare la prossima e sempre perché questa squadra qua merita veramente tanto ha dimostrato tutto il campionato e non a caso si fanno strisce di vittorie di sette vittorie ora cinque quindi veramente questa squadra secondo me merita veramente tantissimo torniamo sul centro la lotta salvezza la Virtus dei rimpianti ora è terz'ultimo il Lanciano senza penalizzazione sarebbe praticamente già salvo invece serve un grande finale di stagione per evitare la Lega Pro e qui abbiamo la tabella per la volata salvezza con tutte le squadre interessate e il rispettivo calendario delle ultime quattro giornate per la Virtus Lanciano chiaramente spicca il derby di Pescara che si giocherà il prossimo 8 di 8 di maggio alle 17.30 domenica nel tardo pomeriggio avanti ancora con la Lega Pro l'Aquila con la testa ha i play-out quasi inevitabili la crisi dei rosso-blu non vincono da nove partite la cura modica non ha sortito effetti attacco in crisi e poi i play-out fissati al 21 e 28 maggio poi vengono fatte le possibili combinazioni in attesa delle ultime due giornate sempre nell'articolo di Gianmarco Meng Teramo prepara il futuro i nodi di Vivarini e del DS il tecnico sotto contratto fino al 2017 incontrerà Campitelli per il ruolo dirigenziale il profilo scelto è quello di Lupo poi in basso il Benevento di Del Pinto a meno uno dalla B e per la serie D invece il Chieti saluta i play-off solo pari con la Re Canatese per il secondo anno consecutivo i Neroverdi non centrano gli spareggi promozione doccia gelata col gol di Murano non basta il 17esimo centro stagionale di Dos Santos e poi incasso pignorato per vecchi debiti San Nicolo pareggia recrimina contro l'arbitro per due reti annullate Biancazzurri sempre in corsa per i play-off allora andiamo a vedere proprio i due servizi relativi a queste due partite iniziamo dal pari dell'Angelini tra Chieti e Re Canatese e poi quello del Bonoris di Teramo tra San Nicolo e Jesina insidiosa trasferta per la Re Canatese all'Angelini di Chieti decisa non mollare il quinto posto che vuol dire piazzamento nei play-off ed il teatino Mecomonaco salutato dagli sportivi di casa crede nella possibilità di portare via l'intera posta e l'intenzione si concretizza subito dopo il fischio iniziale del signor De Girolamo Neroverdi dormienti nel seguire la costruzione offensiva che viene suggerita dall'ex Miani e finalizzata in spaccata da Murano che eccita le energie vocali della sparuta rappresentanza Re Canatese con l'allenatore Marino che non si meraviglia più di tanto per l'ennesima negligenza della sua squadra che per niente sopraffatta dall'episodio iniziale senza grossi patemi fa leva sul coraggio e sulla vitalità tecnica mettendo in difficoltà gli avversari che concedono a Varone uno spazio centrale per il tiro a rete verso la porta di verdicchio che respinge ma non riesce a chiudere lo spazio offensivo a Dos Santos che sigla la rete del pareggio la Re Canatese priva di due uomini cardine come Camarrà e Angelilli fatica a chiudere gli spazi circostanti alla zona della palla pur affidandosi a prevedibili movimenti offensivi non sempre supportati dalla lucidità al 43esimo dopo varie pressioni il Chieti guadagna un calcio di punizione con Fiore che impatta sulla barriera con qualche secondo di anticipo si ritorna negli spogliatoi dove i rispettivi allenatori non apportano cambiamenti la ripresa vede ancora il Chieti pronto ad attaccare gli spazi utili per aggredire in profondità come fa Massimo al settimo con un forte tiro di poco a lato le prime sostituzioni arrivano dettate più da risentimenti muscolari che per strategie tattiche al sedicesimo il nero verde De Rosa per Pietrantonio al ventesimo il giallorosso Agostinelli per Muraro Mecomonaco vorrebbe di più in fase di penetrazione ma il solo ricorso al gioco di profondità non sortisce gli auspicabili effetti di supremazia che gli uomini di marino registrano sotto il profilo tattico al ventitresimo Massimo su punizione cerca la via risolutiva il pari comprometterebbe la conquista per i playoff ma tale rimane il punteggio che si concretizza dopo tre minuti di recupero campionato ormai da archiviare per i teatini mentre i re canatesi fino alla fine tenderanno le orecchie agli altri risultati per sperare ancora nota di sereno folklore sportivo dalla curva Ezio Volpi che non abdica mai il ruolo di dodicesimo in campo l'arbitro Politi la pioggia e il solito istinto autolesionistico condannano il San Nicola ad un pari contro una Iesina che vuol dire addio praticamente definitivo alle possibilità di disputare i playoff Agnonese e San Benedettese gli ultimi due ostacoli con una speranza da conservare fino alla fine che il miracolo sportivo perché questo sarebbe si compia Epifani sceglie una difesa inedita con De Santis centrale ai suoi lati Terrenzio a destra per dare a sinistra in un 3-4-3 in cui Moretti vince il ballottaggio con Chiacchiarelli per affiancare Bucchi e Merlonghi Mozzone a sinistra la gara la impatta che è una meraviglia al quinto chiude il triangolo con Merlonghi e trova sul secondo palo Moretti che non impatta la sfera da ottima posizione la Iesina si copre quando può e prova a pungere come al decimo con Pierandrei sinistro debole fuori misura il Sanicolo preme al 13esimo ancora da sinistra crea le premesse con un vantaggio che però non arriva perché Merlonghi invece di tirare preferisce servire ancora Moretti anticipato sul più bello e così al 26esimo arriva la beffa per i padroni di casa Trudor in ripartenza coglie di sorpresa la retroguardia Biancazzurra scarica al momento giusto per Cardinali che col sinistro fulmina calore per il vantaggio dei Leoncelli che avrebbero al 31esimo anche la possibilità del bis se solo Pierandrei calibrasse meglio il lob a tu per tu con calore la difesa a tre balla paurosamente allora Epifani torna lo schieramento a quattro con Terrenzo e De Santis centrali Pretara a destra e Mozzoni a sinistra la sveglia al 40esimo prova a suonarla Merlonghi da piazzato il destro è potente sì ma di poco alto sopra la traversa Merlonghi già l'uomo in più quello che si ritrova sul destro al 51esimo il pallone che scaglia l'incrocio dei pali lasciando di sasso Tavoni per il gol che vale la parità proprio ad inizio ripresa la gara è aperta frulla al 56esimo trova la sponda di Pierandrei che libera il sinistro sotto misura di Carnevali di poco alto nemmeno il tempo di ripensare al pericolo scampato che il San Nicolò va vicino al sorpasso con un'azione insistita conclusa da Petronio col sinistro centrale ribattuto da Tavoni si diceva dell'uomo in più chi ce lo ha sa che spesso e volentieri anche se non giochi una gara memorabile puoi affidarti a lui per risolverla e così accade al 63esimo dalla stessa mattonella e con lo stesso piede lo stesso giocatore Mario Merlonghi punisce ancora la Jesina con la sfera che bacia il palo e si infila alle spalle di Tavoni per il sorpasso di casa ma il San Nicolò quest'anno è bravissimo a distruggere in un attimo quanto costruisce con fatica all'82esimo infatti il missile di Trudo è potente ma non sembra imparabile calore è leggermente in ritardo e il pari si materializza quando in pochi se lo aspettavano ma le emozioni non sono finite qua Epifani butta nella mischia De Giglio che al 41esimo è solo contro Tavoni serve Merloni che appoggerete il pallone del 3-2 ma non ha fatto i conti con Gianluca Perna che valuta la posizione del numero 11 come irregolare altro episodio da Moviola all'87esimo Calcina ferma con le mani l'inserimento di Bucchi per Politi però appena fuori dall'area di rigore la sta affilata da piazzato di un altro in entrato Chiacchiarelli centra la parte superiore della traversa dall'altra parte Frulla sempre da punizione trova la risposta stavolta puntuale di calore con i piedi prima dell'ultimo tentativo fuori di Merlonghi che chiude una gara tanto scoppiettante quanto ricca di polemiche per la delezione di Politi di Lecce e ora per i playoff al San Nicolò servirebbe un miracolo sempre sul centro Avezzano fa solo il derby la Mitternina retrocede la sfida decisa con un gol da un gol di Di Curzio nel primo quarto d'ora della partita Lucarelli noi vicini al traguardo di felice non potevamo chiedere di più Gialorossi in eccellenza Giulianova saluta la Serie D con 5 sberle a campo basso poi l'urlo della vastese e Serie D gli Aragonesi vincono il campionato sul filo di lana condannando la Val di Sangro alla retrocessione oltre 700 tifosi hanno invaso il campo di Montemarconi portato in trionfo giocatori e tecnico il pari di Tucci aveva spaventato i biancorossi poi i gol della sicurezza con Balzano e Iaboni qui vediamo alcuni scatti appunto scene di festa ieri al Montemarconi di Atessa l'esultanza qui di Iaboni al momento della terza rete poi uno scatto della squadra con alle spalle di tantissimi tifosi accorsi da vasto appunto nell'impianto a Tessano Colavitto ci ho sempre creduto dice Paterno chiude i conti in 45 minuti poi tutti con l'orecchio alle radio ma appunto per il Paterno ancora una volta un secondo posto proprio sul filo di lana andiamo avanti con il calcio a 5 il Pescara sciupa tutto col Benfica i biancazzurri si fanno rimontare due gol cedono ai rigori e chiudono la Final Four al quarto posto poi playoff da venerdì il primo quarto di finale sabato in campo Montesilvano e Pescara per il podismo di Cecco fa il vuoto anche nella scarpinata a Manoppello il podista di Farra si conferma numero uno in Abruzzo di Donato prima tra le donne basket Trullo ai playoff Roseto giocherà senza pressione il coach parla della bella stagione della Meccanergy la corsa verso la A inizierà il primo agio contro Ferentino l'incitamento alla squadra noi dobbiamo provare a vincere con tranquillità col sorriso sulle labbra consapevoli di essere stati capaci di fare nostre nove trasferte su undici e poi in basso Proger Galli primo nodo da sciogliere e per la serie B Campli Amatori Pescara un derby per sognare domenica il via i playoff la Weir contro Falconara Vasto si giocherà la salvezza contro Taranto andiamo ora sul messaggero torniamo sul messaggero Abruzzo torniamo alla serie B Lanciano ci crede rimonta possibile il pareggio ottenuto a Cagliari ha attemprato la squadra che dopo la nuova penalizzazione ora sarebbe retrocessa in Lega Pro Maragliulo gruppo fantastico la classifica non ci fa paura poi siamo partiti da una situazione disperata uscendone sempre alla grande e sarà così sorpasso Salernitana si decide tutto a Livorno Livorno sarà l'ultima tappa di questo campionato per la Virtus Lanciano per la Lega Pro Teramo manca solo l'ufficialità per l'ok di Lupo domenica prossima passare la finale con la Spal Capolista nell'Aquila salvezza ancora possibile bisognerà quasi certamente passare dalla lotteria dei play-out ma la squadra si è bloccata dopo la restituzione dei punti a Rimini assente la dirigenza serve la massima unità di intenti nei momenti di difficoltà e poi ancora per la Serie D Chieti solo un punto finisce il sogno play-off la Recanatese concorrente diretta per l'ammissione alla post-season in vantaggio con Murano nella ripresa Marino abbiamo davanti squadre che hanno speso più di noi l'allenatore realista quando sono arrivato la classifica era deficitaria poi tanti miglioramenti Avezzano di Curzio sigla e gol salvezza con la Miternina e poi sempre per Raddisa Nicolo non basta la doppietta di Mernonghi Giulianova in disarmone becca 5 a Campobasso noi in questo momento andiamo a vederci il servizio relativo alla vittoria dell'Avezzano sulla Miternina tre punti per ipotecare la permanenza in serie D non ancora matematica il successo ottenuto al De Marsi con la Miternina ha regalato tre punti comunque pesanti all'Avezzano che cercherà di chiudere definitivamente domenica prossima a Iesi il discorso salvezza per la squadra scoppitana arriva la retrocessione matematica dopo una stagione contrassegnata da tante avversità ma anche da errori che dovranno servire da lezione per tentare sin dalla prossima stagione la nuova scalata nella Lega Nazionale di Lettanti si comincia con la squadra di casa all'attacco all'ottavo minuto Di Curzio in area non riesce a trovare lo spiraglio giusto per concludere in maniera vincente permettendo alla difesa ospite di salvare il gol è però solo rimandato e arriva al tredicesimo quando Di Curzio si presenta davanti a Di Vincenzo infilandolo per l'uno a zero al ventesimo punizione Di Bisegna piuttosto telefonata con l'estremo Aquilano che non rischia la presa respingendo con i pugni al ventiquattresimo arriva la risposta della formazione ospite che è affidata un tiro di Schippol parato da Di Girolamo a terra intorno alla mezz'ora c'è una nuova fiammata della squadra di casa che prima si rende pericolosa con un tiro di Bisegna deviato in calcio d'angolo da Di Vincenzo e poi sugli sviluppi del corner con un colpo di testa di Menna che alza di poco sopra la traversa la squadra scoppitana spinge ma manca sempre l'ultimo passaggio in area marsicana al trentaquattresimo tocca così a Di Genova in area della Miternina fallire in maniera clamorosa il gol del 2-0 e della sicurezza nella ripresa al primo minuto Pollino conclude dall'interno dell'area aquilana e per poco non inganna Di Vincenzo che riesce a bloccare la palla proprio sulla linea di porta al quinto è Di Genova a mancare lo specchio con un tiro dalla distanza all'ottavo si rivede la squadra di Candido di Felice con una punizione di D'Alessandris che fa correre un brivido a Di Girolamo che vede la palla attraversare l'area di rigore senza che nessun giocatore giallorosso riesca ad intervenire al diciottesimo il ne è entrato Mazzaferro all'occasione giusta per pareggiare i conti ma manca di pochissimo il bersaglio grosso con la palla che termina a lato la gara resta aperta e piacevole da vedere con Lavezzano che si rivede minacciosamente in avanti con Bisegna che impegna in due tempi al ventiduesimo Di Vincenzo poi ancora attacchi dall'una e dall'altra parte prima del triplice fischio finale di Iacovacci di Latina che dà in là alla festa bianco-verde per una salvezza ormai sempre più vicina sempre sul messaggero calcio a 5 Pescara rigori fatali col Benfica sfuma la medaglia di bronzo in extremis nella UEFA dilapidato il vantaggio per 2 a 0 Canale e Borruto avevano fatto sognare l'impresa contro i portoghesi a Madrid e poi c'è l'accusa del patron Danilo Iannascoli lo spogliatoio è diviso il presidente rosa troppo ampia la cambieremo Colini deluso abbiamo riaperto una gara già vinta come detto la UEFA Futsal Cup è poi andata ai russi dell'Ugra Jugorsk che hanno battuto per 4-3 i padroni di casa dell'Inter Movistar dunque un successo se vogliamo anche a sorpresa per il basket Roseto ai playoff sfida inedita con il Ferentino sulla strada degli Sharks grandi nomi come Bulleri e Gigli lancio di un fumogeno la società prende le distanze dai teppisti c'è il rischio che la sfida contro i nazieri possa essere disputata in campo neutro e poi proprio nell'articolo di Luca Maggitti possiamo leggere anche le date con gara 1 a Ferentino gara 2 sempre a Ferentino il 3 maggio poi il 6 maggio gara 3 a Roseto l'eventuale gara 4 si giocherà domenica 8 dunque potenzialmente 4 partite in una settimana e poi l'eventuale Bella che si giocherà il mercoledì successivo sempre a Ferentino l'11 di maggio poi ancora di Cosmo Proger costruirò un organico ancora più forte playoff derby fratricida tra Campi e Pescara per l'Ortonace e Falconara la vincente del derby troverà in semifinale Bisceglie o Sansevero il Giulianova si ferma dopo aver conquistato la salvezza nella regular season in basso per il beach volley a Monica Lestini il titolo italiano indoor e chiudiamo con il calcio di eccellenza la vastese è qui la festa tanta fatica per mandare K.O. il Val di Sangro Iaboni nel finale chiude i conti con un euro goal in delirio i 720 tifosi biancorossi all'inizio della ripresa il gol scaccia incubo di Balzano il capitano Giuliano il merito è del gruppo il bomber bel match ci hanno fatto penare qui vediamo altri scatti che evidenziano la festa ieri al Montemarcone di Atessa Martinsicuro strappa i playoff al San Salvo le due squadre a pari punti contano gli scontri diretti e con questo titolo possiamo giungere alla conclusione di questo nostro appuntamento odierno con Mattino 6 ricordandovi le tre edizioni del TG delle ore 14 19 e 23 e ricordandovi l'appuntamento di questa sera in diretta dai nostri studi con Replay la trasmissione di Enrico Rocchi che focalizzerà l'attenzione sul sul gran momento del Pescara dopo queste cinque vittorie consecutive con alle porte la trasferta in salsa playoff di Chiavari contro la Virtus Entella io ringrazio in regia Gianni D'Areo ringrazio voi che ci avete seguito in questa mattinata buona giornata grazie a tutti grazie a tutti